Questa sera, nei templi di Pestum, le stelle a metà di Alessandro Siani e Sal Da Vinci, tre grandi nomi dello spettacolo italiano a servizio di una storia di periferia. È infatti uno dei tanti degradati comuni alle pendici del Vesuvio che Nicola Vetrana, detto Nick, il personaggio interpretato da Sai Da Vinci, ex cantante di successo, ha fondato la sua Star Academy, scuola di musica per giovani talenti. Le difficoltà sono molte, ma la passione, l'impegno e la volontà di salvare quei ragazzi da un destino fatto di strada e demarginazione, spingono Nick a lottare con tutte le sue forze per tenere in piedi la sua scuola. Il destino però lo porta a scontrarsi con gli interessi di una grande multinazionale che, una volta abbattuto l'immobile, vorrebbe creare in quel quartiere un centro commerciale. E a curare gli interessi degli imprenditori acquirenti verrà mandata a Napoli una vecchia conoscenza di Nick, Mia, il suo primo grande ed indimenticato amore. Una commedia dove si ride, si cambia, ma soprattutto ci si emoziona con la grande voce di Sai Da Vinci e di tanti altri giovani talenti. Musica, speranze e amore, gli ingredienti che compongono la commedia musicale, nata da un'idea di Alessandro Sianni, che dirige anche un cast di giovanissimi, tutti alla prima esperienza artistica, e che si è affidato al grande coreografo e regista TV Luca Tommasini, attualmente direttore artistico di X Factor Italia per le scene danzate. Un lavoro artistico molto attuale, già apprezzatissimo nella stagione teatrale appena trascorsa, durante la quale ha registrato per oltre un mese un soldato dopo l'altro all'Augusteo di Napoli.